Si registrano problemi per quanto riguarda la viabilità nella zona che va da Colle Minuccio a San Pietro, quindi le strade sono soprattutto quelle soggette a questi problemi, tante, le buche, insomma, davvero state riscontrando molte difficoltà soprattutto per quanto riguarda la viabilità appunto. Sì, infatti è una presa in giro perché è da primavera che dovevano rifare queste strade e non l'hanno fatto mai, quindi ci stanno solo prendendo in giro, chiamiamo, non ci ascolta nessuno e su non si può camminare più. Purtroppo su ci sono anziani, ci stanno anche dei bambini, adesso torna la neve, succede qualcosa, non sappiamo come fare, non è più praticabile. Ce la dobbiamo rifare da sola la strada? Non lo possiamo fare perché ci vuole una carta per farlo, non è che possiamo fare da soli, se no lo faremo noi da soli, almeno a tappare quelle buche più profonde. Le macchine si stanno distruggendo, non sappiamo più come fare. Quante richieste avete fatto fino adesso all'assessore, al sindaco? Tantissime, tantissime. Il sindaco è pure venuto, ha visto le strade, ha promesso che faceva qualcosa, non abbiamo visto niente. L'assessore lo chiamiamo di continuo, non c'è niente, cioè nessuno ci si fila, siamo abbandonati da tutti, da tutti, da tutti. Chiedete quindi un intervento celere soprattutto per l'inverno che ormai è alle porte? Sì, certo, per l'inverno che è alle porte perché io ho due vecchi, una invalida, ho due bambine, se succede qualcosa non so dove sbattere la testa. Come è successo quando fu il terremoto, che c'era tantissima neve, siamo rimasti bloccati, bloccati e non ci ha guardato nessuno, nessuno. Qualcuno ci deve aiutare, per favore.